I'm on my way, I'm on my way, home sweet home Ciao ragazzi, quella che stavo tentando di canticchiare è una canzone che mi piace tantissimo dei Motley Crue, un gruppo musicale che è entrato a far parte della mia vita nell'ormai lontano 2000. Mi ero appena trasferita dalla Calabria al Piemonte e avevo appena iniziato la meravigliosa avventura della mia vita da adulta. Questa canzone si intitola Home Sweet Home e se non la conoscete vi invito ad andarla ad ascoltare perché se siete un minimo rocchettari sicuramente vi piacerà da matti. Alcuni mesi fa ho ricevuto in regalo per il mio compleanno nella fattispecie nel mese di maggio quest'opera, un libro autobiografico scritto da Nicky Six bassista e autore dei testi dei Motley Crue. Si intitola The First Twenty One, racconta i primi 21 anni della vita di questo personaggio pazzesco. È stata una lettura che ho completato giusto poche sere fa e mi ha divertito veramente tanto perché è molto scorrevole, è scritto in maniera molto colloquiale e non so, è sempre divertente entrare nella vita di personaggi così sregolati, così strambi rispetto ai nostri canoni abituali. Comunque è un libro che mi è piaciuto moltissimo, pubblicato da Edizioni Il Castello, se vi piacciono le autobiografie, se vi piace la musica vi invito a leggerlo perché secondo me vale la pena, è una lettura molto carina e scorrevole e a tratti anche molto illuminante. Infatti vorrei condividere con voi una parte di questo libro che mi è piaciuta moltissimo e condivido appieno. Però prima vi leggo la trama così vi rendete conto più o meno di che cosa parla. Nicky Six, icona del rock'n'roll e scrittore di successo. Finalmente svela le origini della sua storia come Frank Feranna è diventato Nicky Six, l'affascinante viaggio che ha trasformato un campagnolo dell'Idaho nell'uomo che ha formato il rivoluzionario gruppo rock dei Motley Crew. Nicky Six, nato Franklin Carlton Feranna, viene abbandonato piccolissimo dal padre e in parte cresciuto da sua madre, una donna in anticipo sui tempi ma profondamente turbata. Si ritrova quindi a vivere con i nonni sballottato per metà Stati Uniti e costretto a fare la spola tra una fattoria e l'altra. Ma nel cuore del tipico adolescente americano che si diverte a cacciare, pescare, rincorrere le ragazze e giocare a football divampa il desiderio bruciante di un qualcosa di più. E quel qualcosa è la musica. Alla fine Frankie salta su un bus della Greyhound e approda a Hollywood. Giunto a Los Angeles si trasferisce a casa dello zio, allora presidente della Capitol Records. Ma non esistono scorciatoie sicure e in breve Frank si ritrova a dover provvedere per sé. Le giornate trascorrono all'insegna di lavoretti poco appaganti e piccole truffe necessarie alla sopravvivenza. Ma dopo il tramonto la musica cambia. Prova dopo prova Frank affina le sue capacità di musicista e si unisce ai Sister, la band di Blacky Lawless, altro celeberrimo veterano della scena. Fonda poi London, precursori dei Motley Crue, e rifiuta persino la proposta di unirsi al gruppo del leggendario Randy Rhoads. Inizia quindi a farsi chiamare Nicky London, poi Nicky Nine e infine Nicky Six. Come un novello Huck Finn, il neonato Six ha un grande sogno, creare una band in grado di unire punk, glam e hard rock per dare vita allo spettacolo più incredibile, eccessivo e irresistibile che si sia mai visto. Con il duro lavoro, la passione e un po' di fortuna, ben presto quel sogno diventerà realtà. Questa è la storia sincera e toccante di come Frank Feranna ha superato ogni genere di ostacolo ed è diventato Nicky Six. Il libro, come vi dicevo, è molto spassoso perché è scritto in maniera estremamente semplice e racconta un sacco di aneddoti pazzeschi avvenuti nella vita di questa rock star che ha fatto tutto, tutto quello che può fare una rock star nella propria vita. Insomma dai, ne è uscito vivo e è beato lui. Insomma adesso è un signore, un bel signore di più di 60 anni, vi faccio vedere la foto con moglie e bambina. Insomma dai, è diventato una persona saggia a suo modo. Quindi mi piacerebbe leggervi questa parte del libro in cui racconta qualche trucco cui fa ricorso quando si sente impantanato, quindi in crisi creativa. Buon ascolto. Ciò che le altre persone potrebbero fare con quello che stai creando non è affare tuo. Inseguire le mode o anche solo assecondarle è un veleno mortale, non solo ai fini del processo, ma anche per quanto riguarda il risultato. Kit Richards si porta sempre in giro la chitarra, suona di continuo, cosa che trovo ammirevole, ma non è il mio modo di fare. Io passo un sacco di tempo ad aspettare, ma nel frattempo mi tengo in forma, mi alleno, leggo, scrivo. Cerco di essere sempre pronto. Nell'arco degli anni ho imparato che le idee, quando arrivano, arrivano tutte in una volta, come una valanga. Meglio farsi trovare pronti. Quando il testo, la poesia o l'idea per una canzone inizia a prendere forma, mi serve un posto tranquillo. Deve essere un luogo in cui mi piace stare. Mi siedo sempre per terra. C'è qualcosa nell'incrociare le gambe e ficcare la testa tra le pagine di un quaderno che mi aiuta a connettermi con l'ispirazione. È il mio modo di ancorarmi, di sentire le radici che affondano nel terreno. La maggior parte delle volte mi circondo di libri di ogni tipo. Chi mi ha visto in quelle circostanze sostiene che sembra quasi che stia cercando di evocare un demone. Forse è proprio così. Comunque sia, sembra funzionare. In parecchi dei miei testi non ci sono rime. O meglio, non rime vere e proprie. Quando scrivo, lascio fluire le parole. A volte mi è anche capitato di scrivere di getto qualcosa come quattro pagine piene senza nemmeno una pausa per prendere una boccata d'aria. Se mi blocco, afferro uno dei libri attorno a me. Lo apro a una pagina a caso e punto il dito alla cieca. La regola è che devo usare una delle parole incluse in quella frase. Non è una regola assoluta. Potete sempre eliminare la parola incriminata in una fase successiva. Potete scartare l'intero verso e eliminare è tanto importante quanto aggiungere. Una volta che la parola è servita al suo scopo non c'è nulla di male nel tagliarla. L'importante è far girare la ruota. Provateci anche voi. Ho scoperto che questa strategia mi serve per smettere di pensare al fatto che mi sono bloccato e di conseguenza per ritornare in carreggiata. Il mio cuore accelera. Mi sento come se fossi sul punto di scoprire un segreto incredibile, una specie di tesoro. E sarò onesto. A volte è proprio così. Potremmo starcene qui a parlare di accordi maggiori e minori, solfeggi, cambi di tonalità per tutto il giorno. Ma staremmo pensando, non facendo. Restate rilassati. Mantenete la mente aperta. Tenete sempre a portata di mano un quaderno o un taccuino. Quando l'ispirazione arriva, siate pronti ad accostare a bordo strada per prendere nota. Allo stesso modo è cruciale che proteggiate il vostro spazio creativo. Chiudete fuori il rumore. Non fate entrare i perfettini, signor noi, denigratori, gli inibitori. Allontanateli, eliminateli e fatelo il prima possibile. Circondatevi di cose che stimolino la creatività. Libri, quadri, fotografie, dischi. Circondatevi di persone creative. Sognate in grande, siate impavidi, esercitatevi a pensare a lungo termine sia nella vita che nel lavoro. Il peggio che vi può capitare è che fallirete. È il meglio che vi capiterà. Sarà il fallimento. Perché è proprio il fallimento. A volte persino di fronte a una marea di gente a mettervi il pepe al culo. Se tutti sapessimo prima che questo funziona e quello no, saremmo tutti miliardari. Ma dato che siamo tutti ciechi che procedono a tentoni nell'oscurità, il minimo che possiamo fare è prendere confidenza con l'apprendimento per tentativi ed errori. Non è vero che servono 10.000 ore di pratiche per padroneggiare la vostra arte. Serve tutta la vita ed è la cosa migliore perché, guarda caso, avete a disposizione tutta la vostra vita. Credete in voi stessi anche se siete gli unici a farlo. Credete in voi stessi soprattutto se siete gli unici a farlo. Non abbiate paura di ammettere i vostri sbagli, ma se nel profondo del cuore sentite di avere ragione, tenete duro. Tutte le grandi idee a un certo punto sono state percepite come minacce, ma se avete ragione e restate fedeli a voi stessi, il mondo prima o poi vi seguirà. È proprio di questo che parla la canzone Stick to your guns, quella che avevo scritto per i blondi. Devi essere fedele alle tue armi. Quello che è giusto per te non è giusto per tutti. Non sottovalutare il ruolo della fortuna. Le persone di successo tendono a farlo. Attribuiscono le loro conquiste all'intelligenza, all'impegno, alla bellezza, al carisma. La verità è che probabilmente a un certo punto è intervenuta anche la dea bendata. E non c'è nulla di cui vergognarsi. La fortuna va e viene. Il segreto consiste nel restare sempre in gran forma, in modo che quando arriva tu riesca ad acciuffarla. La botta di culo della vita potrebbe non ripresentarsi una seconda volta. Quando arriva, pertanto, cercate di non sprecarla. Se esistessero delle istruzioni su come va affrontata la vita, sarebbero quelle che vi ho appena elencato, o almeno quelle che valgono nel mio caso. Il sentiero della creatività. Per me è importantissimo anche conservare la connessione spirituale con qualcosa di più grande. L'arroganza è il contrario della creazione. Cerco di celebrare la vita e restare umile. Bene, io non posso andare avanti per varie ragioni, però è un libro che mi ha divertito tantissimo, l'ho letto con vero piacere. Mi ha anche regalato molti spunti di riflessione. Quindi, insomma, Nicky Six, promosso anche come scrittore, almeno dal mio punto di vista, oltre che come musicista. Se vi piace la musica rock, il glam, insomma la musica che abbia un po' di ritmo, ascoltateli perché secondo me sono un bel gruppo. Vi ringrazio per avermi ascoltata fino a questo punto. Questo libro si intitola The First 21. Come sono diventato Nicky Six? Non mi ricordavo bene il titolo. L'autore è Nicky Six, pubblicato dalla casa editrice Il Castello. Spero di avervi regalato qualche minuto piacevole e ci sentiamo presto con un nuovo video in cui vi leggerò altre cose belle. Ciao dalla vostra Rosanna!